Ciao lupi e lupacchiotti, io sono Sunwolf e questo è un nuovo video tutorial Allora, vi devo spiegare perché non ho pubblicato video tutto questo tempo E un'altra cosa ancora Allora, praticamente, uno, un motivo per cui non ho pubblicato da molto tempo i video Sono stati, cioè, perché ero in vacanza e non potevo farli Il secondo motivo è perché non avevo voglia quando sono poi tornata qui a casa Perciò, proprio, scialla E poi ho appena iniziato il liceo artistico Perciò mi devo dedicare di più allo studio E non posso dedicarmi come prima per i video, almeno ci provo Allora, poi la seconda notizia è che non porterò più videogiochi Già Sono parecchio difficili da editare e ci metto troppo tempo a farli E ho deciso di non continuare con i videogiochi Ma intanto continuerò con i video tutorial di disegno Specie adesso che vado all'artistico Perciò potrò insegnarvi molte più cose Con meno problemi, ecco Poi mi piacerebbe se nei commenti di questo video Scrivete qualcosa da disegnare E la terza notizia Non so se si può definire notizia, dipende da voi Se voi mi scriverete delle domande, ecco In ogni video che posterò Magari un giorno potrei fare un video A cui rispondo proprio alle vostre domande E se volete posso fare anche un vlog Ogni tanto Non ho nient'altro da dirvi Perciò vi lascio al video Ciao 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 Ciao